C'è solo Bertra può lamentarsi di essere poveri e buttare i soldi su Fortnite guardano Ancora non ci ho speso un cazzo su sto gioco Sì sì Non ci ho speso niente ma tutti i balletti e le spaline doppie e pure la banana in culo Sì perché ho il salva il mondo Va bene? Ah! Tu hai salva il mondo? Quindi l'hai comprato! Beh 100 euro di salva il mondo No mi han dato la chi prima che uscisse La chi? Ma vaffanculo Mi han dato la chi prima che uscisse il gioco completo La chi? Da che cosa? La chi? La chi? La chi? Allora chi offre la mappa quest'oggi? Di sicuro non Bertra perché da Bertra non me la faccio offrire quindi Chi la offre? Posso offrirla io? Dai c'è 20 euro va bene? No! 20 euro Oggi la mappa è gentilmente offerta da World of Tanks Blitz World of Tanks Blitz è un gioco free to play Multi piattaforma MMO di guerra tra carri armati Possiamo scegliere tra oltre 350 carri armati I quali non sono solamente tratti da la classica seconda guerra mondiale Ma anche da storie alternative Ad esempio Warhammer 40.000 Valkyria Chronicles E caso curioso Molti sono anche fatti dagli artisti di Mad Max Che penso lo conosciamo tutti il film Prima di startare una partita Vi volevo dire che scaricando World of Tanks Blitz Con il link in descrizione Sbloccherete un tank T1 E6 Più 7 giorni di account premium World of Tanks Blitz è un'arena tra le nazioni del mondo E più gente gioca della tua nazione e del tuo stato Più saranno gli upgrade che otterrà la nazione stessa Ad esempio il 18 settembre Aspetta Hanno aggiunto ben 10 carri armati europei Di cui una marea di italiani Con il leggendario progetto 65 Che è il tank di tier 10 super OP Uh! Preso È fermo Voglio ben vedere Adesso me lo farmo Non ti muovere No 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 Fermo lì Fermo lì Dai che ci metto 8 ore a caricare il proiettile Ancora un colpo Eh c'è andato Ciao Oh mi piace che ci sia questo luogo di interesse In questa torre centrale E tutti vengano a scannarsi qui Ce l'hai dietro eh Un attimo Mi sono incassato nelle scalette Ma non gli ho fatto niente C'ha mille vita più di noi Ok 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 Colpo di grazia Nooo Non potresti mirare magari No ma vedi il cerchietto giallo che c'è in mezzo Quando è verde è più preciso Ah Guarda qui piccolino lo sfondo Porca troia Ah un 500 Ancora un colpo Ah furbo lui Eh non mi fa niente però Mi fa tipo 100 danni Si è attaccato così non puoi sparargli C'ho la canna troppo lunga raga Non ci arriva Uè è antisportivo questo Ah 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 Eh bro Allora lo tengo qua Lo tengo qua per i miei alleati Adesso spero che arrivino gli alleati E lui non ci può muovere no Penso che non funzioni così di gioco L'altro l'hai investito Hai visto? Era la mia strategia Comunque Questo era il gioco Se vi interessa trovate il link per scaricarlo In descrizione Detto questo Noi torniamo su Fortnite Bertra no si stava fermi durante il placement Perché ti sei mosso? Ma se vi stavate saltellando tutti Non è vero non è vero Ti stavi muovendo Oh tutto bisogna insegnare Non hai imparato niente Non stava facendo niente a nessuno Ho capito Ma tu su youtube che cazzo guardi Ecco Cioè Che mappa è? L'ho rubata a uno da 3 milioni di iscritti Che fa 10.000 views a video Quindi un po' fallito Top Ah quindi la prassi più o meno No hai già iniziato What is? C'è scritto Aspetta qui Quando le luci si spengono Fai la tua mossa È la mappa di una notte al museo Siamo in tre Dov'è Scad? Eh io sono qua In una sala Con dei quadri E le armi Ah ma è 3v1 Oddio Oddio 3v1 Ma hai fatto un 3v1 3v1 raga Go 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 Oh ma ci ha visto? No no aspetta Scad Non funziona così Aspetta What? Cosa? Ma che cazzo? Raga noi stiamo Stiamo a improvvisare Oddio Ma cosa perché va avanti e indietro? Ah è un continuo Ma io devo scendere da qui? Non posso scendere Ah bella sua modalità Mi piace Eh insomma Cambiamo prop ogni volta che diventa buio Eh esatto Però la vita è la stessa Beh bello lui Bello 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 Guarda ti do uno spoiler Guarda non ti devi muovere quando si toglie il tappeto nero Dai che l'hai visto A proposito di tappeti Salve Suc Questa cosa intermittente ha fotte un casino No 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 pezzi di merda Eh vabbè vai Spara caso spara caso che magari anche se non lo vedi comunque lo prendi Oddio raga ma cosa ho combinato? Ma tiene una cecchinata Sbone Ciao Sì ma comunque non vale non avevamo capito la modalità Eh vabbè ho vinto basta 300 facile Leggiamo le regole Allora come si vince Raccogli il metallo e depositolo al piano di sopra Ah Le guardie pigliano 100 punti per eliminazione Capito? Stigate di merda non dovete nascondervi Ah 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 3, 2, 1 Magica bula Vedi bula Vedi Vedi Prendi 100 di metallo Ah ma è un continuo a fare il giro Non sto capendo Come lo stai capendo? No non sto capendo Il metallo dove lo dobbiamo volare L'abbiamo spiegato Quanto materiale hai? 100? Si Eh allora devi salire di nuovo Allora corri dritto nella stanza Rifai lo stesso percorso in loop E ogni volta prendi 100 lo rifai Butti 100 riprendi 100 lo rifai Prendi 100 lo rifai Prendi 100 lo rifai Butti 100 lo rifai Prendi 100 Quindi è spawn che spara adesso fa il cecchino Si Esatto Cazzo 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 Nope No Troppo poco tempo Oh cazzo Ah coglione Bastardo Bravo Bravo Ehi giovane sparami D-fogo oh oh dai 顔 dai vediamo Eventi morgo Ma stai due minuti a mirare E poi non Eh beh miro bene Oh cazzo Ah! Ah, come è scatto per il paletto Vai, Corri! Shisshi Eh, vabbè Oh cazzo Ah! Tan tan tarrantantan Tan tarrantantan Man 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 ma Ma no dai ma è.. Grifatissimo Haha ha Oh no Oh cazzo Aaaa When I see you aag La 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 Laa La 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 Amuro Manamn La 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 dai ma si ma vi nascondete come i cani poi voglio dire fatevi una vita allora la prossima volta sto fermo e mi faccio ammazzare come i pezzi di merda sezione banana banana in mezzo banana panchina 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 starta dall'uovo panchina starta dall'uovo panchina starta no cazzo sono vivo due uova di merda siamo passate ho fatto una cagata no sono inizialmente cascato giù sono invisibile come hai fatto a prenderlo ma stardi come hai fatto a prenderlo che era dietro invisibile ma si era grande come mezza mappa era un'altra cosa come quella lì mamma mia un toccazzo sullo stroke bravo bravo adesso flexo guarda come flexo ora se si vede troppo alta non riesco a virare non mi becchi oh eh non mi becchi si si un'altro colpo un'altro colpo bravo bravo a casa madonna ma c'è proprio l'asciugamani non serve per fare lo sniper a sta mappa eh si si tra gli ardare un botto no tocca a me adesso far lo sniper raga sono free punti con andare a sniper vai 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 non serve neanche a trasformarsi via dritto tutti dritti tutti dritti raga insomma triple collateral ma non è neanche partita esatto no sono scappati anche questa volta facile ciao meee 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 i'm invisible muori ma quanto abitai comunque la banana è low eh fai tu too fucking strong ahhh scud che porre ahhh ma non si gioca così non l'hai neanche visto si che l'ho visto ma non potevo sparargli perchè era sotto i'm invisible oh oh ho la prospettiva oh 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 ciao invisibile dai beaa non uccidere me sennò poi non abbiamo la visuale sui prof non me ne freco un cazzo ormai andrei in modalità full tilt oh che palne sto fucile a ce mette 20.000 on fare un caricatore guardalo oh guarda la banana la banana andiamo fai fortuna ohoho no no dai no no vuoi è più scarso chiaramente madonna vedi ogni volta che mi Metti la mitraglietta che è più utile Cosa? Sto male Ridi che poi ti piglia l'infarto Mi scoppia il cuore Andre.tilt.ex Adesso andrà a dire no raga cambiamo mappa Questa fa schifo Non m'ha visto Si l'avevo visto ma è venuto nero Adesso sulla sinistra, non sulle sinistra li compare Ah che c'era quel cosa Dovrebbero farlo perforabile questo muro nero comunque Esatto Almeno quello Ma l'ho visto Questa è una scena degna di Matrix comunque Ti ha fatto il contorno e sei una banana gigantesca Ma vaffan Basta Vaffanculo non gioco più Mille punti Ti sto piangendo Io ho fatto pochi punti perché hanno fatto i 300 Ma andrà ne ha fatti 100 Eh perché hanno ammazzato uno Esatto No ritocca a me ma hai buggato Ah mo ci divertiamo dio santo Ma dove siete avete già fatto il giro? No Si deve ancora aprire Si apre adesso Oh brutto bambino morto Ciao Vaffanculo Giovanni Eh c'ho l'occhio di De Falco Di De Falco Nero Perfetto via Devo diminuirmi la sensibilità perché con sta mitraglietta da l'ho così lontano mi spada tutto Ah adesso sono scarso se gli dice che ho la sensibilità alta No 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 non c'è il muro non c'è il muro Scud comunque approfitta degli errori del gioco Esatto Perfitto anche da fatto che siamo su console Dio Bertrat levati da lì dio Però dai gioca un po' seriamente Sei sempre dietro i muretti come come cazzo I senza figo Divertente eh veloce la modalità Attenzione gli parte il tilt Tra l'altro mi sta pure laggando Eh si si Ah pure che schifo Sta laggando la connessione non va Ma ve lo giuro che mi sta laggando Si si Cazzo non avevo in mano il coso Cazzo no cazzo Ah Oh shit Via Sto fatto pure un 360 No io mi diminuisco la sensibilità Alcennò è impossibile No Andre è stato chiuso Il gioco mi ha detto no tu fuori Guarda che 360 faccia Sbone Olè 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 Ma cosa Ho sbagliato Ah Puniscilo Puniscilo Rovina gli la testa Ah Perfetto approfittati Dai dai Qui ti metti dietro la statua Facile Provo la pistoletta E Tanto viene nero Eh raga, la C7 fa 24 e la mitraglietta fa 8 É ovvio che non vi uccido con la mitraglietta Yeah! Oh, yeah! Oh, shit! No! 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 Mira! Mi vien da piangere! Va come macina, cazzo! Ecco a instructor ci tira fuori tanti minerali fitto! Le tue lacrime sono deliziose! Via ma non ce l'ha Ho capito qual è il problema. Hanno tolto l'automira delle console. Eh sì. L'hanno tolto. I piedi di pittana Figlio di rectato. Sto farmando più ferro io che è surra power in 800 episodi di minecraft. Itadio boh No, ti ho fatto il contorno, ti ho fatto il contorno non ci credo Io dico intorno di solito prendo i pisellini e le carote Via 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 Infame ti vedo ti vedo. Dio santo Yoink È però è però Ma non c'è l'auto aim è per quello che con la playstation sei stupido Non c'è la cazzo di automira vedi io miro lì e non arriva niente vanno da soli ti colpi non posso mirare Quel cazzo faccio mirare con una cosa che va a destra a sinistra e basta E' che ci volevo giocare la fortnite E' fatto male Sto male 2100 by the way Oh this is very bello Oh va a posto free points proprio C'è il connessionato cazzo Eh sì effettivamente Cioè io vi sento che siete già arrivate lì Questi sono già free points E' uno coglione Bastardo T'ho visto Easiest cento di ferro of my life Bertrand non volevo dirtela Intanto scadlo ho ucciso che è una cosa che nessun altro è riuscito a fare finora Sì sai com'è tu hai il mouse e io c'ho l'auto aim del cazzo che è impossibile giocare Cosa sta facendo Mamma mia Hai visto Hai visto Ha due di vita Due di vita Com'è stare con due di vita Giovanni Eh Che è un raffreddore e ci rimani C'è la pezzetta sulla fronte Ce la sta sudando C'è il porta borracce che lo segue perché non ce la fa Oh scusa Bello Andrea bello No Si è messo palesemente qui sod guardalo Hello motherfucker Un applauso al nascondino di Spawn il migliore della puntata figa Spawn the best nascondino eu Spawn era quello che a nascondino in real si metteva dietro quello che contava e appena smetteva chip Non si giocava così a nascondino scusa Ah no Cosa Ma cosa ero dietro un quadro Ti avanzava fuori la testa Ma è vero Ma è la tua visuale Slurp slurp Deliziose lacrime Quando se io non esci te lo dico io Bertra Non c'è che fare il fighetto Che palle Bravo scada hai vinto Vi ricordiamo di nuovo che se volete scaricare World of tank blitz C'è il link in descrizione E scaricandolo con altro link in descrizione Sbloccherete gratuitamente Il caro armato T1 e 6 E una settimana di account premium Per oggi basta Vado a sgozzare Bertra ciao Oh chi ha vinto Chi ha vinto dai Standing innovation Perché ha vinto Il nascondiglio Il ferro E lo sport